inizia bene questa rubrica per oggi delle Ardia Black Friday allora immagino che ci siano tanti tanti così mi dai il foglio di rispondi che bello buongiorno Susanna ma cosa avete non c'era rotto il ponte come Casermaggiore è un anno che non venite più qua no no è stato un anno che ho dovuto lavorare per portare avanti l'azienda allora tu dicevi che c'è dicevi che c'è sì noi l'abbiamo fatto alla grande adesso mi alzo perché qui ero insieme a Babbo Natale siamo già in compagnia di Babbo Natale bentornato Ugo che bello ragazzi siamo tornati siamo tornati alla Valle dei Fiori di Mantua e sì stiamo parlando del Black Friday che continua sì noi come il solito siamo sempre io sono vecchio ma queste sono parole che non so neanche pronunciarle però lo facciamo grazie ai nostri collaboratori ecco noi partiamo dal 20 al 30 al 50% e adesso qui siamo entrati già avanti 20 metri dall'entrata l'entrata è ancora più bella poi vedrete siamo partiti per il 20% sulle corone 30% sulle corone il 20% sulle luci sugli abetti ma sugli abetti abbiamo anche fatto un'altra cosa perché la gente prende l'abete piccolo poi cambia casa fare l'abete grande allora cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto la rottamazione chi in questo momento è importante la rottamazione allora hanno rottamato tanti politici noi rottamiamo solo gli alberi ci fermiamo lì ci fermiamo lì allora abbiamo rottamato tutti gli abetti che voi avete in casa vecchi o piccoli noi vi facciamo il 20% più 10% di sconto che in questo modo potete mettere l'albero noi questo qui poi andiamo a regalarli come abbiamo regalato dei fiori per i morti a chi i suoi cimiteri abbiamo regalato 300 vasi dove non c'era nessuno anche questi abetti li diamo a certe persone che non hanno niente poveri li diamo perciò poi abbiamo il 50% su tutti i pupazzi che poi potremo la vedete e poi abbiamo il 30% su tutte le corone ma avremo il 20% anche su tutti gli addobbi le palline addobbi sì sono queste sfere piccole medie grosse che danno un'allegria perché quando andate in un bar andate in un ristorante andate dove c'è grande che c'è due cosettine ma se voi guardate qui che bello e costano poco c'è il 20% anche questi ecco questa è la valle dei fiori rinnovata abbiamo lavorato tanto però chi viene qui trova non di più di più di più di più uno deve fare 4-5 giri per vedere un po' tutto ma questo io penso che se chi ci ascolta da casa vuole passare una domenica intera con i propri cari qua veramente c'è di tutto abbiamo tutta la ceramica sul rosso sul bianco abbiamo tutto oltre i pupazzi le palline abbiamo il bosco che poi vedrete il bosco che con gli scoiattoli abbiamo gli orsi comunque 2500 metri quadrati poi tanti sono più belli tutti sono belli io non sto dicendo che il mio è il più bello o del migliore noi abbiamo sicuramente i prezzi più competitivi sicuramente abbiamo delle cose che nessuno ha perché dopo insomma dopo 30 anni che faccio questo lavoro i fornitori mondiali che fanno le fiere e quando fanno le fiere è finito le fiere ci danno noi tutta la campionatura però trovate delle cose incredibili però c'è solo quel pezzo ci sono abbiamo tutti i campionari che non sono non si trovano non si trovano proprio e noi siamo organizzati da 10 anni che facciamo questo perché è questo perché io quest'anno ho raggiunto i 25 mila Babbi Natale uno diverso dall'altro perciò andando su a cercare i miei Babbi Natale ho comprato tutti gli stand e tutto quello che è possibile ecco ricordiamo infatti che il signor Orlandelli ha questa collezione di Babbo Natale non dico forse unica al mondo ma quasi perché ha dei pezzi veramente incredibili non l'ho fatto perché non ho avuto tempo perché occorre 30 mila euro per fare il Guinness dei Premanti per fare le domande per pagare gli ispettori che vengono per i giudici ma penso di farlo velocemente perché nessuno ha questi numeri nessuno però ci saremo anche noi quando farà il Guinness che lo vincerà sicuramente sì ma non è che devo trovare un posto per mettere tutti questi devo trovare veramente ci vuole tanto spazio ma prima o poi lo farò perché vorrei fare un museo di queste cose bene perfetto va bene noi intanto andiamo un'altra parte adesso andiamo nel bosco andiamo no andiamo dove c'è la neve andiamo dove c'è la neve allora ci vediamo tra poco dalla neve esatto intanto vedete il dettaglio della travasa di Ormandelli adesso invece noi diamo il benvenuto alla collega Cristiana Borghe andiamo lì